In questo video io ho sfidato Error 404M nelle duels Questa è una serie dove sfido le persone in 3 duel a scelta mia e 3 duel a scelta loro Ogni vittoria conta come un punto e alla fine chi ha più punti vince Ma, in caso di parità, giochiamo uno spareggio in una bridge Ok raga, in questo video siamo con... Error! C'ho Error che mitragliarda, quindi questa l'hai scelta tua Facciamo turni, ok? Guarda il mio bimbo, guarda Ah! Cosa? Oh no, ma perchè? Mi... Ah! No, tu tre... Ah! Ah, volevi te, sono visto Ahahahah No Ok, allora rifacciamo la bad fight perchè sei stato c... 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 c...ato Oh! Nooo! 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 Questa la scelgo io... è un po' rischiosa... però... Eh, in realtà... Ehm... 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 Oh, finalmente! Nooo! Nel buco, sei davvero bordo! Quanto vuoi? 3-0 Perfetto Io, Yuduru, è stato maltrattato dal due Non ci credo Ah, ma il bello è che dovevi sceglierla tu questa due, invece l'ho scelta io Non ci credo Vediamo un bel tempo Non lo so Non capisco Non capisco Nooo! ok bellissimo proprio ok ci ho detto di venire dai vieni no no mi ha fatto quell' ugly schifoso no scegli l'ultima no perchè boh ma perchè minimo 20 daiki dai dai 20 daiki dai 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 anche 100 va bene se volete basta basta la baglie perchè sto parlando vai ish ragazzi questo è troppo no no mi riuscire uuuuuh ah minchia però c'è pasta no oh anzì oh no ho la borsa non ci prego no ma ho messo sempre lì per l'ultimo quando c'è questo giabito è tutto il giard oh io odio sta roba no ma come no vabbè a 20 like non vi ho vincito allora ho fatto cagare perchè errore è più bravo andate a vedere il suo canale volete volete i video nella sua pov andategli a vedere secondo me citta vabbè per questo video è tutto ciao ciao ciao